Il porto che cambia, viaggio fra i cantieri aperti nell'area del triangolino nel cuore dello scalo marittimo via Regino, dopo la banchina commerciale, indirittura di arrivo ai lavori al nuovo mercato ittico attesi da oltre dieci anni, pronto entro fine anno, il vice sindaco Alberici ai nostri microfoni parla anche del futuro approdo per superiote. Ecco il primo campo in sintetico, la città di Viareggio, pronti nuovi terreni con materiali di ultima generazione a Marco Polo Sport Center, a primavera la piscina coperta, partito il maxiprogetto di inclusione sociale con la scuola calcio per bambini disabili. Tutti pronti alla Baldoria, sabato 7 settembre la lunga notte per la festa della Madonna, Barchini e Dragon Bot sulla canale Burlamacca, via Regini Pineta per raccogliere legna per il grande falò, una delle più antiche tradizioni via Regine di fine estate. Weekend tra natura e sport, camaiore da venerdì a domenica capitale italiana dell'alpinismo e dell'escursionismo con la seconda edizione del Climbing and Trekking Festival, villaggio outdoor in centro storico e tanti eventi per unire il turismo del mare alla montagna. Centinaia di atleti per il triathlon, domenica 8 settembre, il classico triathlon sprint, giunto alla quarta edizione, 750 metri a nuoto, 20 km in bici, la conclusiva frazione di corsa di 5 km, piazza Mazzini a Via Reggio, come sempre cuore della manifestazione. Ben ritrovati con l'informazione del TG Noi Versilia. In apertura parliamo dello sviluppo del porto di Via Reggio, dopo aver visto lo stato di avanzamento dei lavori per la banchina commerciale. Si dà uno sguardo a tutto tondo alle nuove infrastrutture su tutto il mercato ittico che, come sapete, la città attende da oltre dieci anni. Dopo un decennio di stop e ingossi arriva all'apertura. A breve ci sarà dunque l'inaugurazione di questo nuovo mercato. Ha parlato di questo e di molto altro il vice sindaco Alberici ai nostri microfoni. Sentiamo il nostro primo servizio. Una delle infrastrutture sulle quali ha puntato la regione toscana, l'amministrazione via reggina e l'autorità portuale, in totale armonia istituzionale, è il potenziamento del porto di Via Reggio con l'obiettivo comune del suo rilancio e di una rinnovata funzionalità dell'intera area portuale che potrebbe rappresentare la chiave di svolta per il futuro della città e dell'intera Versilia. Non a caso la politica dell'amministrazione è stata quella di dedicare ogni sforzo all'apertura del nuovo mercato ittico, alla realizzazione della banchina commerciale e di un nuovo approdo turistico superlusso al triangolino. Insomma, un progetto di riqualificazione dell'intera area portuale che rappresenterà, una volta ultimato, il vero e proprio biglietto da visita del porto di Via Reggino. Oltre alla banchina commerciale ci sarà una nuova viabilità, ci sarà il nuovo mercato ittico, una viabilità che sarà adeguata anche al progetto che iCare sta predisponendo per il triangolino e quindi un'area strategica e un'area di sviluppo ma soprattutto un'area che darà finalmente a Via Reggio quello che gli spetta. Quindi sviluppo, lavoro e accoglienza. Siamo ai ritocchi, quella diventa per noi non soltanto il tema che riguarda la nostra pesca, la marineria via reggina che è una delle più importanti della Toscana avrà finalmente una casa in cui potrai fare le aste, in cui potrai organizzare le proprie iniziative ma anche avremo un'eccellenza che è quella del ristorante, dell'accoglienza anche del turismo. Iti turismo è uno degli obiettivi che ci siamo dati. Quindi turismo, pesca, insomma per Via Reggio ci sono delle grandi prospettive. Quando più o meno potrebbe essere inaugurato l'ittico? Ma stiamo lavorando sui ritocchi, dobbiamo ancora predisporre una pensilina che siamo obbligati a fare e quindi credo che entro la fine dell'anno saremo pronti. E adesso la cronaca. Un'auto di grossa cilindrata rubata ad un turista francese in vacanza in Versili è stata ritrovata sulle colline di Camaiore, è stata la polizia municipale grazie ad una segnalazione a individuare il veicolo, un SUV. Lunedì scorso è accaduto in località Trescolli, siamo sopra il borgo di Casoli. Si tratta, come vedete da questa foto, di una BMW X5, risultato oggetto di furto a Pietrasanta. Il proprietario aveva denunciato il fatto alla polizia di Forte dei Marmi e i vigili di Camaiore, nell'attività di controllo del territorio, hanno individuato e rimosso il veicolo, naturalmente restituito al proprietario. Ma non c'è traccia per adesso del responsabile, del furto dei responsabili. Parliamo di strutture sportive a Viareggio perché prende finalmente forma il rinato Centropolo che oggi si chiama, come sapete, Marco Polo Sport Center. Aperti finalmente i primi e nuovissimi campi in sintetico. Pensate, sono i primi dopo anni di attesa in città a Viareggio. Ed è lanciato anche il progetto di inclusione sociale per bambini diversamente abili. Vediamo il nostro servizio. Il primo campo da calcio a 11 in sintetico di Viareggio è in realtà. È uno dei primi tasselli del nuovo Marco Polo Sport Center, il centro sportivo in fase di realizzazione in Via Aurelia, sorto sulle ceneri del vecchio Centropolo Comunale. Un investimento complessivo da oltre 5 milioni di euro, lanciato a primavera da un gruppo di imprenditori viareggini e salutato con entusiasmo anche dai vertici del CONI. Questo è un terreno sintetico della Limonta, ditta leader nel settore. La prerogativa di questo terreno è anche l'intaso, che è uno dei pochi campi in Italia con un intaso bio. Quindi che da un punto di vista anche per gli atleti di trauma sulle caviglie praticamente è meno invasivo, meno doloroso e quindi anzi per i giocatori sarà un piacere giocare su questo terreno. È una novità che hanno pochi campi in Italia e noi siamo tra quelli che hanno questa prerogativa e questa possibilità. Le prove generali sul campo a 11, ma anche sui 2 a 7, modulabili a 9, sono in corso in questi giorni di Open Day per la nuova scuola calcio. Appena partita con la Via Reggio National Young e la Reset Academy di Davide Lippi, uno degli investitori del progetto, insieme a papà Marcello. Vedere già i primi calci, i primi bimbi, calpestarlo e già fare attività, è emozionante insomma. Per noi, mio padre l'ha sentito ora, mi ha detto mandami tutte le foto, voglio vedere, è in Cina e quindi insomma siamo contenti. Il progetto è insuperabile per bimbi un po' meno fortunati, per bimbi con disabilità di tutti i tipi. Qui apriremo la quindicesima scuola calcio che abbiamo in Italia, e quindi continueremo in quel progetto per dare la possibilità anche in questa zona, laddove ci saranno bimbi che avranno voglia e con disabilità di giocare a calcio e di sentirsi importante di farlo. Un grande spazio ritrovato per lo sport Via Reggino, dal grande valore sociale. Già pronti i due campi da paddle, a giorni la beach arena indoor, mentre a primavera, dopo il secondo lotto di lavori, arriverà la piscina coperta e altri spazi per il fitness e la medicina sportiva. Siamo riusciti ad aprire nei tempi previsti, siamo partiti con la scuola calcio, oggi è il secondo giorno di Open Day, un grande afflusso, le persone ci sembrano soddisfatte. Da parte nostra, da parte mia, la soddisfazione maggiore è quella di avere aperto un centro che era completamente in disuso e averlo reso vivo. Come potete vedere, oggigiorno ci sono oltre 40 bimbi che stanno giocando, tutti i genitori sono molto, ci auguriamo, soddisfatti di questa iniziativa. Voltiamo pagina, parliamo di artigianato, una delle eccellenze della Versilia che, nonostante la crisi degli ultimi anni, sembra trovare adesso nuovi sbocchi grazie alle possibilità del digitale e del web. Si conferma un appuntamento importante a Seravezza, Le Mani, appunto, eccellenze in Versilia. Sentiamo il servizio. Una vetrina per tutto l'artigianato, artistico e non, della Versilia e oltre. È questo Le Mani, eccellenze in Versilia, ottava edizione della rassegna culturale, promossa a Seravezza dalla CNA provinciale, insieme al Comune e alla Fondazione Terra Medice. 23 artigiani del territorio, dal marmo alla sartoria fino al design, sono coinvolti quest'anno nella sofisticata mostra che trova spazio dal 6 al 29 settembre alle scuderie Granducali. Un omaggio al know-how dei maestri che hanno fatto e continuano a fare la storia della nostra economia. Alfabeto artigiano è il tema scelto quest'anno, non solo una mostra ma anche tre convegni tematici. Oltre all'artigianato del marmo, la Versilia è carica di storie. Chiaramente è una prima ricognizione in questo senso aperto, perché come sapete questa è l'ottava edizione e è nata per mettere in evidenza l'artigianato del marmo. Poi con gli anni ci siamo resi conto che la Versilia ha delle storie meravigliose da raccontare, storie di artigianato, storie di resistenza, perché oggi avere il coraggio di fare l'artigiano e l'artista vuol dire essere resistente. L'obiettivo è quello di fare rete, rete tra tutto l'artigianato e tutte le eccellenze del nostro territorio per farlo crescere e per renderlo maggiormente visibile fuori dai confini della Versilia. L'artigianato ha subito gli effetti della crisi negli ultimi anni, come rivela la CNA, ma oggi, grazie alle potenzialità offerte dal web, ha trovato una rivincita con nuovi mercati aperti dalle vendite online. Stiamo verificando una ripresa di quella realtà, una ripresa dovuta stranamente al fatto che evidentemente con il nuovo scenario del maggiore utilizzo della rete si possono, a questo tipo di imprese, essere a livello di mercato globale. Di conseguenza queste imprese, secondo noi, nel futuro avranno una capacità di attrare e di vendere di più i loro prodotti, che sono ovviamente prodotti unici, il famoso Made in Italy. Noi pensiamo che è un artigianato su cui bisogna puntare, ecco perché noi come CNA facciamo ragionamento su di loro, perché pensiamo che evidentemente nessuno ci può copiare. La politica adesso, come sapete, il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte ha sciolto la riserva e ha annunciato la lista dei ministri, lo ha fatto al Quirinale, nella lista dei ministri del nuovo governo, fra le numerose personalità, spicca anche quella di Luciana Lamorgese, neo-ministro degli interni, la vediamo in questa foto. La neo-ministra è stata a Viareggio lo scorso inverno a Carnevale perché ha ricevuto, ricorderete, il premio Ondina 2019 da parte della Fondazione Carnevale. Carnevale 2019 che fu dedicato alla figura femminile e l'ex prefetto Lamorgese venne omaggiata in favore della sua lunga e importante carriera. Nello stesso contesto venne conferito un premio Ondina anche al prefetto Laura Simonetti che nel frattempo ha lasciato l'incarico per pensionamento. E arrivano le congratulazioni per l'incarico da ministro da parte della Fondazione Carnevale di Viareggio e che ricorda dalla propria pagina Facebook appunto il premio Ondina 2019. Torniamo a parlare di versili e di potenzialità, quelle dell'artigianato, l'abbiamo sentito in questo servizio, quelle del turismo, almeno quelle ancora inespresse legate al legame tra mare e montagna. In questo orizzonte viaggia il Festival Climbing and Trekking che si svolgerà a Camaiore e che farà di Camaiore della Versilia la capitale dell'alpinismo e dell'escursionismo. Ma sentiamo. La Versilia torna a capitale dell'alpinismo e dell'escursionismo con la seconda edizione del Camaiore Climbing and Trekking Festival in programma questo fine settimana dal 6 all'8 settembre. L'evento, parte del circuito Slow Travel Fest organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica è stato presentato a Firenze, presso la regione. Protagoniste le nostre Alpi Apuane che accoglieranno escursioni per tutti i livelli tra le vette più belle e gare di arrampicata sulle rocce ma anche i luoghi più suggestivi della Via Francigena e il centro storico di Camaiore. Lì verrà infatti allestito un vero villaggio outdoor con le spettacolari pareti da arrampicata che ospiteranno diverse prove di abilità e tecnica. Questa è la seconda edizione dopo la prima che è avvenuta l'anno scorso e che ha avuto un notevole riscontro e successo. In questa seconda edizione si ripeteranno tutte le attività che abbiamo fatto l'anno scorso che sono il trekking, l'arrampicata, addirittura ci sarà uno stage sulla tecnica con Manolo che l'anno scorso era uno degli ospiti principali e quest'anno si ritorna a fare uno stage proprio da arrampicata e ci sarà un ospite quest'anno che è Cristo Fainz che è una guida alpina alta tesina un alpinista molto famoso anche lui, mio collega e quindi sarà una bella serata di immagini e di montagna. Un programma ricchissimo di attività per attirare in Versilia appassionati da ogni dove legando sport e natura. Guardando al futuro Carlo Alberto Carrai ha annunciato la firma dell'affiliazione all'Associazione Europea delle Vie Francigene del Consorzio di Promozione Turistica. Inoltre l'auspicio, come ha spiegato, è che l'evento Tappa Costiera dello Slow Travel Fest possa chiamarsi nel 2020 Versilia Climbing and Trekking Festival per promuovere tutto il territorio, dal mare alla montagna. Sono in via di esaurimento i biglietti per il concerto di sabato 14 settembre che Gino Paoli insieme a Danilo Rea terrà la bussola di Focette, quello con il cantautore è nato a Monfalcone ma poi è divenuto genovese d'occa e l'ultimo appuntamento estivo della rassegna bussola d'autore che ha già visto salire sul palco della Tempio della Musica della Versilia, Peppino Di Capri, Patti Pravo, Gian Domenico Anellino. Si tratta di un ritorno per il grande cantautore Gino Paoli dal momento che nella sua lunga carriera ha toccato proprio il palco della bussola in momenti rimasti celebri per la canzone leggera italiana. Torniamo a Viareggio, adesso ci si prepara a celebrare un'antica tradizione la festa della Madonna con le immancabili Baldori e Viareggini che in queste ore, pensate, si recano in pineta per costruire il grande falò. Vediamo il servizio. La tradizione vuole che un'enorme catasta di aghi di pino, a Viareggio Pinugliori, rami e frasche, venga accatastata e poi bruciata nella piazza a simboleggiare il ringraziamento alla Madonna per lo scampato pericolo che a Viareggio aveva causato centinaia di morti. La notte del 7 settembre, vigilia della Natività di Maria Santissima, si racconta che avvenne un miracolo che fece cessare l'epidemia di colera a Viareggio. Siamo nel lontano 1854 e per la città fu un momento drammatico. Noi sappiamo che ci furono oltre 500 morti nella popolazione, quindi Viareggio prostrata non sapeva come affrontare il morbo che stava sconvolgendo la città. E ci fu il curatino, padre Antonio Pucci, che ebbe, diciamo così, un'ispirazione, invitò la città a riunirsi intorno al tabernacolo dedicato alla Madonna Bambina, tabernacolo che si trova ai piedi del Ponte di Pisa, fatto costruire nel 1837 da Saverio Cardinali, proprio anche lui per una graccia ricevuta in mare, era una famiglia di naviganti, e che pregasse la Madonna perché preservasse Viareggio, facesse mandare via al colera. Così la città si riunì intorno al tabernacolo, pregò intensamente e improvvisamente, come era scoppiato il morbo, il morbo sparì. Da quel giorno tutti gli anni Viareggio alza al cielo lingue di fuoco, forse sempre meno numerose ed alte per motivi di sicurezza, forse meno alimentate da partecipato spirito devozionale, ma ancora testimonianza d'attaccamento alla nostra tradizione. Tradizione che porta avanti con energia la comunità di Via Guerrazzi, a Viareggio, che da oggi ha iniziato la raccolta di pinugliuri nella pianeta davanti al Colombo. Tre generazioni al lavoro per mantenere viva la cultura popolare. Ma lei quanti anni ha? Eh, è 83. E vieni qua ancora a raccogliere i pinugliuri per la Baldoria? Eh, per forza, finché ce la faccio. La grande attualità resta protagonista su Noi TV. Da mercoledì 4 a mercoledì 18 settembre, in prima serata, la nostra emittente proporrà i più interessanti incontri della decima festa del Fatto Quotidiano, andata in scena lo scorso fine settimana in Versiliana, con ospiti di primissimo piano della politica e del giornalismo italiano. Ultimo, come ricorderete, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che proprio in queste ore si appresta a giurare per il suo secondo governo. Fra gli ospiti, qua vediamo le prime cittadine di Torino e di Roma, Raggi e Appendino, ma anche Piero Angelo, il magistrato Nino Di Matteo, Ilaria Cucchi, l'ex ministro Fornero e naturalmente le migliori firme del Fatto Quotidiano. Dunque un'occasione di approfondimento per i nostri telespettatori dopo la lunga estate di attualità del caffè della Versiliana, andato in onda anche quest'anno su Noi TV. Appuntamento col Fatto Quotidiano, vi ricordo, tutte le sere escluse le domeniche, alle 21 in prima serata sul Canale 10, naturalmente. Ci fermiamo qua con la cronaca tra poco con le notizie sportive del nostro telegiornale. Ben ritrovati, eccoci allo sport, il calcio in primo piano e in apertura, diamo uno sguardo alla situazione interna al Vireggio 2014, sempre più difficile, c'è ancora più delusione e amarezza fra i tifosi, viste anche le squalifiche e le penalizzazioni arrivate in queste ore nei confronti dei vertici del team Zebrato. Ma sentiamo i particolari con Roy Lepole. Per il Vireggio 2014 non c'è davvero pace. Il presidente Pier Vincenzo Squadrilli è stato infatti inibito per otto mesi, mentre la società è stata multata di 1700 euro e penalizzata di tre punti da scontare nella corrente stagione sportiva nel campionato di competenza, anche se per adesso non c'è. La decisione è quella presa dal Tribunale federale nazionale sezione disciplinare della FIGC ufficializzata nel comunicato numero 13 del 3 settembre. I provvedimenti nei confronti di squadrilli sono stati presi in quanto all'epoca dei fatti, primo agosto era presidente legale e rappresentante della società. Nel mirino il mancato pagamento con relative vertenze di tre ex calciatori del Vireggio 2014, Bacher, Giovanelli e De Filippi, ereditati dalla vecchia gestione. Arriveranno a breve anche altri provvedimenti nei confronti di alcuni tesserati del Vireggio 2014. Il motivo è l'errato tesseramento di un giocatore che ha preso parte alla Vireggio Cup. I dirigenti sono stati già interrogati da parte della Procura federale, qui gli è scontato che ci siano altre squalifiche. Tra queste anche l'ex responsabile del settore giovanile Gian Maria Lertola, adesso direttore generale della neonata Virtus Vireggio, che si aspetta un provvedimento per questa vicenda. Il momento del calcio viareggio non è sinceramente dei migliori. I tifosi sono sconcertati e delusi nello stesso tempo, perché una città come Vireggio, che quest'anno ha festeggiato il centenario della squadra nel modo peggiore, meritava qualcosa di diverso. Visto quanto accaduto, c'è la voglia a questo punto di ripartire con qualche sicurezza per il futuro. Da qui l'appello anche al sindaco Giorgio Del Ghingaro e a personaggi noti in città che possono contribuire, si spera finalmente, al rilancio del calcio locale. Questa è la situazione per il viareggio calcio, ma c'è un calciatore viareggino che invece proda con la società rossonera della Lucchese. Una nuova avventura per Michael Benassi, 29enne difensore, ultimo colpo in ordine per il nuovo team lucchese. Lo scorso anno ha militato nella Romagna Centro-Cesena in Serie D, 30 presenze e due reti. Benassi, viareggino Doc, va dunque a rinforzare non di poco il pacchetto arretrato della formazione lucchese nella Serie D. Parliamo anche di un altro versiliese, di un altro viareggino, ma cambiamo disciplina, andiamo su hockey su pista. Matteo Cardella, che è assegnato con la maglia della Nazionale Azzurra, parliamo della Nazionale Under-17 negli ultimi giochi che sono in corso adesso. Un'Italia che è riuscita a vincere contro l'Inghilterra 6-3 nella finale di una partita difficile a campionati europei Under-17 e tra i vincitori morali, perché il protagonista c'è proprio il viareggino Matteo Cardella, che ha sbloccato il risultato contro gli inglesi dopo appena 48 secondi. I tre punti conquistati portano a 9 il bottino degli azzurri, suggellando il passaggio dell'Italia al girone a 4, che assegna titolo e medaglie. Gli azzurri sono i primi, ed è quasi certo che saranno Spagna, Portogallo e Svizzera ad accompagnarli nella seconda fase e dunque con il contributo di questo giovanissimo viareggino. Ancora allo sport, centinaia di atleti che arriveranno a Viareggio questa domenica per prendere parte all'ormai tradizionale triathlon sprint. Sentiamo il programma in questo servizio. Grande domenica di sport la prossima con il classico triathlon sprint, giunto quest'anno alla quarta edizione. 750 metri a nuoto, 20 chilometri in bicicletta e la conclusiva frazione di corse è di 5 chilometri. Piazza Mazzini, ovvero il bel vedere delle maschere, sarà come sempre, domenica 8 settembre, il cuore nevralgico della manifestazione. L'iniziativa è creata e organizzata dalla società viareggino Escape Tuscany Triathlon, con il supporto di iCare Pharmacy City e il patrocino del Comune di Viareggio e della Fondazione Carnevale. Alla manifestazione anche il Presidente nazionale della Federazione Italiana Triathlon. Il Presidente della Federazione Italiana Triathlon, Luigi Bianchi, sceglie Viareggio perché Viareggio ha ottenuto la titolarità internazionale e viene a vedere di persona la nostra città e rendersi conto della sicurezza che noi possiamo dare agli atleti in gara. Alla previazione finale saranno presenti l'assessore May e il Presidente di iCare Pagnini. Sul palco anche Burlamacco, l'ufficiale del Carnevale, speaker Daniele Maffei, affiancato dall'ex campione italiano di triathlon Vincenzo Lardinelli. Siccome l'amministrazione comunale è molto attenta a queste manifestazioni, è molto attenta al rilancio della città, totalmente, e quindi il rilancio della città passa anche da queste manifestazioni, soprattutto con persone di qualità e con iniziative di qualità qual è l'etit triathlon e quindi la mission di iCare naturalmente si mette in appoggio a iniziative di queste generazioni. Inoltre abbiamo individuato nella manifestazione un ottimo veicolo per la promozione del nostro nuovo brand Pharmacity e per fare in modo che i cittadini avvicinandosi a queste manifestazioni possono anche partecipare e contribuire e venire nelle farmacie comunali di Via Reggio. Buona partecipazione per il torneo di calcetto che si è svolto domenica mattina al Parco La Fenice in via dei Pecchi al Varignano in memoria di Gennaro Chiaro scomparso in un incidente stradale nel 2008. Un giovane del quartiere ed è proprio al Varignano che hanno voluto disputare questo torneo che ha visto la partecipazione di ragazzi dei 10 e 12 anni in rappresentanza di varie squadre Real Varignano quartiere Lenci Green Boys Scuola Calcio del Chiaro un'iniziativa che può essere occasione per organizzare altre manifestazioni come questa per stimolare l'aggregazione per i ragazzi del quartiere in questo caso l'organizzazione il merito va al fratello di Gennaro Vincenzo e altri amici e altri esponenti anche del gruppo Viareggio Ultra che hanno dato il proprio contributo. Ci fermiamo qua anche con lo sport a tra pochissimo con gli eventuali aggiornamenti. Di nuovo insieme non ci sono aggiornamenti di cronaca ma prima di salutarci il consueto appuntamento la nostra rubrica degli auguri questa sera partiamo con le felicitazioni per la nascita di Leon gli auguri vanno naturalmente Alizi Cle, Mary Cuginetti M e Gabriel che annunciano il nuovo arrivo appunto alla nascita del piccolo Leon e le congratulazioni alla mamma Jessica al papà Mirko e al fratellino Brando e dopo le felicitazioni per la nascita gli auguri di buon compleanno vanno a Sara Lepore di Viareggio che festeggia gli anni auguri dai familiari e dagli amici festeggia gli anni Caterina Paolini di Viareggio residente da anni a Forte dei Marmi compie pensate 105 anni auguri da parte di tutta la famiglia è tutto davvero per questa edizione vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona serata